Le favole della buonanotte È sera. Papà Pig legge a Peppa e a George una favola per fare la nanna. E così il principe, la principessa, il papagallino e il ranocchio da quel giorno vissero per tutta la vita felici e contenti. Fine della storia. La favola della buonanotte ha fatto addormentare Peppa e George. Buonanotte, porcellini adorati. George è sveglio. Dinosauro! George, non essere disobbediente. Rimettiti subito a dormire. Ma George non ha affatto sonno. George, la notte è fatta per dormire, non per giocare a letto. Ora ti racconto io una bella favoletta per fare la nanna. Tanto tempo fa viveva un porcellino piccino. Il suo nome era George Pig. Era partito per fare fortuna. Arrivò a sull'imitare di una fitta foresta. Ti piace la favola che ti sto raccontando? Nel folto della foresta c'era una casetta. E all'interno della casetta c'era una ciotola con i fiocchi d'avena. Giorgio Pig aveva molta fame. Se li mangiò di gusto. Miam, miam, miam. Li aveva appena finiti quando Baby Orso entrò in casa. E gli disse... Hai mangiato tu i miei fiocchi d'avena magici? E George rispose... Sì! Baby Orso gli spiegò che quei fiocchi d'avena magici l'avrebbero fatto diventare molto, molto grande. Infatti, Giorgio Pig iniziò a crescere e crebbe, 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 finché non divenne più alto di tutti gli alberi della foresta. Finita! Ti è venuto sonno, Giorgio? Ma non te ne è venuto neppure pochino pochino. Ma... Va bene, allora continuo a raccontarti questa favola. Baby Orso gli disse... C'è un prezioso scrigno che contiene tantissimo oro e si trova ai confini della terra. Ma io non ci posso andare, perché sono troppo piccolo. Giorgio disse... Non ti preoccupare, ti ci porto io. E così Giorgio Pig si incamminò verso i confini della terra. Camminò, camminò e camminò. Non ti è ancora venuta voglia di dormire? Camminò attraverso le foreste, attraverso le montagne e attraverso i mari. Non ti è ancora venuto sonno? No! Camminò senza sosta, fino ai confini della terra e trovò uno scrigno piego d'oro. E un immenso drago! Sì! Un gigantesco drago verde! Con un bel paio d'ali che metteva fuoco dalla bocca. Per fortuna era un drago molto simpatico e disse... Non potete prendere il tesoro! E in quel momento Giorgio Pig cominciò a rimpicciolire. Rimpicciolì, rimpicciolì, rimpicciolì! Finché non tornò a essere il piccolo Giorgio Pig che era prima di mangiare i fiocchi d'avena. E ora che sei piccolino, come facciamo a ritornare a casa? Disse Baby Orso. Posso riaccompagnarvi in volo! Disse il drago. E così Giorgio Pig e Baby Orso saltarono in groppa al drago. Che battendo forte le sue ali, li riportò indietro nella loro casetta, nella foresta. E qui finisce questa bella favola. Giorgio si è addormentato. Anche Peppa si è addormentata. Piccolina mia, come mai non sei nel tuo lettino? La notte serve per dormire, non per giocare. Buonanotte, procendini miei, e fate sogni d'oro. Peppa e Giorgio sono nei loro lettini e dormono saporitamente. Ombre! È una splendida giornata di sole. Peppa, Giorgio e Rebecca Coniglio giocano al gioco del torello. Prendila in volo, Peppa! Prendila, Rebecca! Giorgio è in mezzo. Sta cercando di afferrare l'ombra della palla. Che sciocchino, Giorgio! Non puoi prenderla, quella non è la palla, è soltanto la sua ombra. Guarda un po'. Quando la palla si muove, anche l'ombra si muove con lei. Anche tu hai un'ombra sotto di te, Giorgio. Giorgio cerca di liberarsi della sua ombra. Nessuno può sfuggire alla sua ombra, Giorgio. A meno che non corra veloce come me. Peppa cerca di seminare la sua ombra. Oh, è ancora sotto di me. Ciao a tutti, amici! Ciao a te, Susy. Stavamo cercando di sfuggire alla nostra ombra. Ma nessuno al mondo può sfuggire alla propria ombra. Oh! Se non ha un monopattino per scappare. Wow! Anche Susy cerca di seminare la sua ombra. Visto? Ma la tua ombra è ancora sotto di te. Oh! Buongiorno a tutti! Ecco il signor elefante con Emily ed Edmond. Ciao a tutti! Stavamo cercando di seminare le nostre ombre. Ma nessuno può sfuggire alla propria ombra. Sì, lo so. Non riusciamo a correre abbastanza velocemente. Ma no, Susy. Non ha niente a che vedere con la velocità della vostra corsa. Vedi? La mia ombra continua a correre insieme a me. Dai, corri più veloce! Anche se aumento la velocità, la mia ombra non mi abbandona mai. Papino, la tua ombra è talmente grande che ti sta rallentando la corsa. No, non è vero, Emily. La nostra ombra non può lasciarci neppure un istante. Perché? Quando qualcosa si frappone tra la Terra e il Sole, proietta un'ombra. Guardate così! La mia ombra è più grande della vostra perché io sono più grande di voi. Io e Giorgia abbiamo l'ombra più piccola della vostra perché siamo i più piccoli del gruppo. Osservazione intelligente. Certo, sono un sapientino. Guardate, di chi è quell'ombra? È l'ombra più grande che abbia mai visto in vita mia. Deve essere l'ombra di un gigante che si avvicina. Non è di un gigante, Susie. Quella è un'ombra proiettata da una nuvola sopra di noi. Bella! Che tipo di nuvola è quella lassù? Ecco, è una grande nuvola. Te lo dico io. Si chiama Stratocumulo. Edmond Elefante è un sapientino. Guardate! Le nostre ombre si stanno allungando. E si allungano perché il sole sta scendendo all'orizzonte. Tra poco sarà buio. Ora la mia ombra è scomparsa. Sì, cara Emily. Quando il sole tramonta, le nostre ombre scompaiono. Peppa, George, a nanna. Va bene, papino. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao. È ora di andare a nanna. Un po' mi dispiace che con il buio la mia ombra sia andata via. Non ti preoccupare, Peppa. Anche la luce elettrica proietta l'ombra e ci permette di giocare alle ombre cinesi. Mamma Pig con le sue mani fa uno spettacolo di ombre cinesi. È un uccello! Sentite come cinguetta. Cip, cip, sono l'uccellino! Ora tocca a me. Peppa ha fatto un ragno. Mi chiamo signor Zampafina. Che paura! E ora è il turno di George. E quello cosa sarebbe, George? Dinosauro! George ha fatto un dinosauro! Fa molta paura! Bravissimo, George! È ora di spegnere la luce. Buonanotte, Peppa. Buonanotte, piccolo George. Buonanotte, ombre. Buonanotte, ombre! Buonanotte, ombre! Palla canestro! È una splendida giornata. Peppa e i suoi amici giocano nel cortile della scuola. Ascoltate! Oggi un personaggio molto conosciuto verrà da voi per insegnarvi a giocare a palla canestro. Buongiorno! Uffa, papà! Non è ancora il momento di andare a casa. Verrà da noi un personaggio molto conosciuto oggi. Ma sono io! Sono il vostro allenatore! Chi insegna uno sport come la palla canestro si chiama allenatore. Sei molto bravo, papino! Peppa, chiamami allenatore. Ok, papà allenatore! Qualcuno di voi ha mai provato a giocare a palla canestro? No, no! È divertente! Bisogna correre, bisogna palleggiare e poi fare canestro. Bravo! Un gioco da ragazzi, vero? Oh! Non è facile come sembra. Per giocare bene a palla canestro bisogna allenarsi molto ed essere in buona forma. Tu pensi davvero di essere in forma, allenatore? Certo! Sono in ottima forma! Sicuro, papà allenatore? Tu hai un pancione enorme! Guarda che questo pancione è un ammasso di muscoli! Prima di tutto vi mostro come farà arrivare la palla da qui a qui. Io sono capace! Oh no, Danny! Non si possono usare i piedi! Non giochiamo a calcio! A Danny Cane piace molto il calcio! A palla canestro devi far rimbalzare la palla con le mani! In questo modo! Chi prova a palleggiare? Io, io, io! Susi Pecora fa rimbalzare la palla con molta attenzione. Bravissima, Susi! E ora provate tutti insieme! Tutti imparano a palleggiare! E ora è il momento di insegnarvi a rubare palla! Che cosa vuol dire rubare palla? Rubare palla è quando un giocatore sottrae la palla a un avversario! In questo modo! Prova a togliermi la palla, George! George ruba molto bene la palla! E ora lancia la palla nel canestro! Forse hai bisogno di allenarti ancora un po', George! E ora facciamo una partita amichevole! Dividetevi in due squadre in numero pari! Femmine contro maschi! Le femmine giocano in una squadra e i maschi nell'altra! Non è giusto, però! I due piccolini sono nella nostra squadra! Non ti preoccupare! Noi maschi vinceremo in ogni caso! Vero! Noi siamo una super squadra! Emily arriva molto in alto con la sua proboscide! Emily sta usando la sua proboscide! Questo è contro tutte le regole! Parla piano, Peppa! Fa parte della squadra di noi femmine! È vero! Allora è valido! No, non è valido! Vogliamo che Emily giochi nella nostra squadra! Ma non può! Gioca con noi, è una femmina! Smettetela di litigare! Potete giocare tutti nella stessa squadra! Ok! Ora tutti giocano nella stessa grande squadra! Oh! Ma contro chi giocheremo? Ehm... Beh... Buongiorno! I genitori sono venuti a prendere i figli! Ideona! Potete giocare contro i vostri genitori! Ma sono più grandi di noi! Lo so! Ma voi avete imparato a giocare a pallacanestro con papà allenatore! Sì! Riusciremo a batterli! Noi siamo la squadra dei piccoli! Sì! E noi la squadra degli adulti! Evviva! Io sono bravino a cricket! Sì! Però noi giochiamo a pallacanestro! Bisogna tirare la palla dentro il canestro! Ma si devono usare solamente le mani! O la proboscide! Niente piedi non si usano! Pronti? Ai posti? Via! Il signore elefante ha la palla! Ma George gliela ruba! E la passa a Zoe Zebra! Che la passa a Richard Coniglio! E Peppa fa uno splendido canestro! Vince la squadra dei piccoli! Evviva! E tutto grazie al mio papino allenatore! Una nuova casa! Papà Pig lavora nel suo studio! Che cosa fai di bello, papino? Lavoro! Sto progettando una nuova casa! Però è piccina piccina! È una casetta per le fate per gli elfi! Oh no! Questo è un modellino! La casa vera sarà molto, molto più grande! E questo disegno ti mostra come verrà una volta finita! Ti sei dimenticato una cosa importantissima! Ecco fatto! Peppa ha disegnato un'altalena davanti alla casa! Sì, perfetto! Vi va di visitare la nuova casa? Sì, grazie papino! Papà Pig porta Peppa e George a visitare la casa in costruzione! Eccoci arrivati! Ma papà, io non vedo niente qui intorno! Certamente, perché il lavoro di costruzione non è ancora cominciato! Uspa! Uspa! Ecco il signor Toro e i suoi amici! Il signor Toro è venuto a costruire la nuova casa! Non puoi costruirla da solo, papino? Io ho fatto la parte complicata del lavoro! Il signor Toro dovrà solo seguire le mie istruzioni! Buongiorno, signor Pig! Che cosa costruiamo oggi? Un parcheggio, una piscina o una rampa di lancio? No, una casa! Potete costruirla uguale a questa, per favore! Però più grande! Il signor Pig vuole una casa! Come vuole che la costruiamo? Di paglia? Di legno? Oppure di mattoni, signor Pig? Di mattoni, per favore! È un'ottima scelta! E non dimenticatevi l'altalena! Non ti preoccupare, Peppa! Sarà fatto! Vi posso aiutare? Anche George vuole aiutare! Ma benissimo, George! Ti dispiacerebbe mettere un mucchietto di malta in questo punto? Sai che cosa sembra? Fango un po' molliccio! La malta è un tipo di fango molto, molto speciale! Che serve a tenere insieme i mattoni! Peppa, ti piacerebbe posare il primo mattone? Sì, grazie tante! Ottimo lavoro! Io faccio il resto! I mattoni vanno messi orizzontali e livellati! Visto? Strato dopo strato! Così lentamente! Ci vorranno secoli! Esagerata! Riuscirete a finirla entro stamattina? Oh, no! Non si può costruire una casa in una mattinata! La porteremo a termine entro domani! Bene! Allora, domani, signor Toro! Ciao, ciao! Ciao! George ha messo per terra un po' di quel fango appiccicoso! E io ci ho poggiato su un mattone! È stata una giornata molto emozionante! E ora chiudete gli occhietti e sogni d'oro! È mattino! Peppa e George sono impazienti di vedere la nuova casa! È finita! È quasi finita! Adesso però deve essere collaudata! Il signor Coniglio è un ispettore edile! Molto bene, direi! Un momento, signori! Non è ancora finita! Cosa? Avete dimenticato l'altalena? Muuu! No, niente affatto! Eccola! Grazie mille, signor Toro! I nostri nuovi vicini potranno finalmente trasferirsi adesso! Nuovi vicini? Sì, Peppa! Abbiamo dei nuovi vicini di casa! Il signor Lupo e la sua famiglia vanno a vivere nella nuova casa! Oh, guarda! Dei piccolini come te! Ciao, ciao! Io sono Wendy Lupo! E io sono Peppa Pig! Grazie per aver costruito la casa, signor Pig! Di che materiale è fatta? Di legno? Di paglia, forse? No, è fatta di mattoni! Controlliamo se è forte e resistente! Prenderò fiato, soffierò... E vedremo! Mmm, è molto solida! E la sua casetta, di quale materiale è fatta, signor Pig? Di mattoni! Quindi non si faccia venire strane idee! Oh, un'altalena! Sì, l'altalena è stata una mia idea! Un'ottima idea! Sali, Peppa, avanti! Mi potresti dare una spinta? No, ma soffierò a pieni polmoni! Pronta! Patata Sidi! Peppa e la sua famiglia vanno in gita a Patata City! Che cos'è questa Patata City, mamma? È un parco a tema, Peppa! Dove la magia degli ortaggi freschi di giornata non ha mai fine! Non sarà un posto un po' noioso? No, sarà uno spasso! Eccoci, Patata City! Stiamo arrivando! Finalmente! Si fermano ai margini di un campo di patate! Sarà questa Patata City? Penso di sì! A quanto pare abbiamo scelto il giorno adatto per la gita! Non è per niente affollato! Sicuro che questo sia il posto giusto, Papà Pig! A me sembra un semplice campo coltivato! Ehi, mi scusi! È questa Patata City? No! Oh, quella lassù è Patata City! In effetti, è un po' diversa da come me l'aspettavo! Ma è un posto fantastico! Quanti biglietti mi servono? Quattro! Due adulti e due piccoli, signorina coniglio! Grazie! Giornata intensa, vedo! Intensa? No! Anzi, è una giornata molto tranquilla per Patata City! Buon divertimento! Anche gli amici di Peppa sono venuti a Patata City! Buona giornata a tutti! Buona giornata, Peppa! Ed ecco il signor Patato in persona! Buongiorno a tutti! E benvenuti a Patata City! La città dove la magia degli ortaggi di giornata non finisce mai! Vedrete crescere gli ortaggi e le verdure! E scoprirete come riescono a mantenerci scattanti e in buona salute! E poi, verrete lanciati nel cielo dalla fantastica patata spaziale! Peppa e i suoi amici fanno un giro sulla patata spaziale! Anche George vuole salire sulla patata spaziale! Sei proprio sicuro, George? Non andrà troppo in alto! Papà Pig soffre di vertigini! Mu! Su, sbrigati, papà Pig! Non ho intenzione di salirci! George è troppo piccolo per andarci solo soletto! Oh, ok! Ma facciamo presto! Oh, sarà più veloce di un lambo! George ha cambiato idea! George, piccolino mio, vieni qui! Quasi quasi scendo anch'io! Conti via! Divertiti, papà Pig! Oh! Oh, ci siamo fermati! Sono felice che sia tutto finito! E' divertentissimo! Sono timore! E' stato molto divertente, non trovi, papino? Sì, divertentissimo! Mammina, e quelli cosa sono? Vai là dietro e prova ad affacciarti, Susy! E adesso che cosa succede? Susy, sei diventata un pomodoro enorme! Guardate, io sono una grossa carota! Oh, sì! E io sono una zucca! Benvenuti nel favoloso giardino dei dinosauri! Oh! Ammirate i nostri amici che si stanno avvicinando! E non vi fate impaurire, perché non sono animali veri! Sono copie identiche ai dinosauri che abitavano la Terra milioni e milioni di anni fa! Non è possibile! Cosa? Il triceratopo è vissuto nel periodo cretacico, mentre lo stegosauro nel giurassico! Quei due non avrebbero mai potuto incontrarsi! E tu come fai a saperlo? Perché sono un sapientino! Molto bravo! Qualcuno di voi vuole salire a bordo? Io! Io! Signor Patato, come mai ci sono dei dinosauri a Patata City? Eh, perché i dinosauri si nutrivano di patate! No! Comunque sia, a voi piccolini piacciono i dinosauri! Dinosauro! Dinosauro! Evviva! Signore e signori, fatevi avanti! Provate anche voi il carosello delle verdurine! Venite! Avanti, amici! Proviamo il carosello delle verdurine! Quanto mi piace Patata City! Perché si imparano tante cose sugli ortaggi, mentre si ride e si scherza sulle giostre! Patata City, dove la magia delle verdure di giornata non ha mai fine! Pedro, il cowboy! È una bella giornata di sole! Pedro ha una nuova tenda giocattolo! Ecco Peppa, George, Danny Cane, Susy Pecora e Wendy Lupo! Ehi là! Ciao, Pedro Pony! Ehi là, amici miei! Benvenuti al mio accampamento di cowboy! Yuhuu! Ma quella è una tenda! Sì, una tenda d'accampamento! Dove i cowboy vanno a riposare quando è notte! Così hai deciso di dormire qui tutte le notti? Ehm... No! Penso che col buio avrei un po' paura! Ma possiamo fingere che il sole sia già tramontato! Ma il sole splende ancora in cielo! Basta fare finta che il sole sia la luna! Va bene! Pedro Pony, possiamo fare anche noi i cowboy? Certamente! Sarete i miei compagni di avventura! Allora, il mio piccolo cowboy ha fame? Sì, una fame da coiote! Noi cowboy di solito diciamo così! Secondo me tutti voi siete molto affamati! Non mi sbaglio, vero? Sì, tante grazie, mamma Pony! Ma i cowboy si accampano sempre vicino alla cucina della loro mamma per mangiare! No! Adesso dovete fare finta che qui intorno non ci siano case! Questo è il Selvaggio West, amici miei! Come hai detto, scusa? Il Selvaggio West è il territorio dove vivono tutti i cowboy del mondo! E che cosa fanno i cowboy? Raccontano tante storie, cantano tante canzoni e mangiano tanti fagioli! Pane, tostato e fagioli per tutta la banda! Evviva! Ai cowboy piacciono pane, tostato e fagioli! A tutti piacciono pane, tostato e fagioli! E chi vuole cantare una canzone da cowboy? Tu conosci una vera canzone da cowboy, Pedro? Non proprio, me la sono inventata! E la melodia è più o meno così! Sono un cowboy che mangia fagioli, badabim, badabam, badabu! Fagioli bolliti, fagioli al ragù! Ne mangiano un petto, la mangia neanche tu! Fagioli bolliti, fagioli al ragù! Ne mangiano un petto, la mangia neanche tu! Entriamo in tenda e raccontiamoci delle storie! Amici, comincio io a raccontare! Una storia che faccia paura! Era una notte freddissima e tempestosa nel favoloso e selvaggio West! E gli animali selvatici erano a caccia, affamati in cerca di cibo! Cercavano da mangiare nel pieno della notte? Sì, certi animali mangiano proprio di notte! Gli animali selvatici! E il coraggioso cowboy Pedro era solo soletto nella sua tenda! Ma non riusciva a prendere sonno, perché dall'esterno arrivavano dei rumori! Erano gli animali selvatici, non è vero? Avete sentito? Un animale selvatico, aiuto! È un passerotto incuriosito dalla tenda di Pedro! Mentre eravamo in tenda pensavo che fosse un'aquila, perché ci sono tante aquile nel selvaggio West! Va tutto bene, cowboy? Sì, mammina cara! È quasi ora di rientrare! Veramente non abbiamo ancora fatto finta di andare a dormire! Rientriamo tutti nella tenda! Buonanotte, amici cowboy! Buonanotte, cowboy metropoli! Sono molto contenta che fuori dalla tenda non ci siano animali selvatici! Animali selvatici! Questo è un lupo! Certo, è il mio papino! Il signor lupo è venuto a prendere Wendy! Tutti i genitori sono venuti a prendere i loro figli! Arrivederci, cowboy metropoli! Arrivederci a tutti, cowboy! Non rientri in casa, Pedro! Vorrei far finta di dormire in tenda ancora un po', posso? Va bene! Mammina, ho cambiato idea, rientro! Certo! Mio piccolo cowboy coraggioso! Anche ai piccoli cowboy coraggiosi piace dormire in casa certe volte! Buonanotte, Pedro! Buonanotte, mamma! Il giardino fiorito! Papà Pig legge il giornale nel suo posto al sole preferito! Oggi è proprio la giornata perfetta per non fare nulla! A Papà Pig piace molto non fare nulla! Cosa altro potrei desiderare? Ah, certo! Una tazza di tè! Nonno Pig è venuto a trovare Peppa e George! Ciao, nonno Pig! Ciao, nonno Ig! Buongiorno, Peppa e George! Ho con me l'occorrente per fare un bel giardino fiorito! Io e George avremo un bellissimo giardino tutto per noi! Ecco, vi ho portato un pacchetto di semi di fiori per uno! E ora ci serve un bel posto al sole per piantare i vostri semini! Eccolo qua! Nonno Pig prepara il terreno per piantare i semi! Oh! Oh, bene! Tè per i lavoratori! Molte grazie, papà Pig! Eh, cosa state facendo? Stiamo piantando un bellissimo giardino! È proprio necessario un giardino! Certo! Ma quello è il posto della mia sedia! Al mondo ci sono cose più importanti delle sedie, papà Pig! Ma io leggo sempre il giornale qui, nel mio posto al sole! Al mondo ci sono cose molto più importanti dei tuoi giornali, papà Pig! Sì, per fare un esempio, i fiori! Guarda, papà! Peppa ha molti semini! George ne ha soltanto uno! Oh! Ma il suo è bello grosso! Ti dispiacerebbe portarci dell'acqua, per favore? Va bene! I semi per crescere hanno bisogno di acqua! Hanno sempre tantissima sete! Alcuni uccellini guardano incuriositi! Non lasciare che gli uccellini mangino i tuoi semi, Peppa! Sciò! Sciò! Volate via, uccellini! Via! Vi ho portato l'acqua! Il mio papino ha spaventato gli uccellini, visto? Papà Pig è un perfetto spaventapasseri! Peppa! George! È ora del bagnetto! Oh! Ma se gli uccellini tornano qui a mangiare! Sta tranquilla, Peppa! Ci penso io a tenerli lontani dai vostri semini! Grazie, papino! Buona fortuna, papà Pig! Ci vediamo domani! Ciao! Ah! Come si sta bene! Papà! Ci avevi promesso di fare lo spaventapasseri! Cos'è? Ehm... Sciò! Sciò! Brutti uccellacci! E adesso? Rimani lì finché gli uccellini non sono andati a dormire! Oh! Obbedisco, Peppa! Tutti gli uccellini sono andati a letto! Papà Pig ora può rientrare! È mattino! George! Andiamo fuori a vedere il nostro giardino fiorito! Uh! Piantine Bebè! Buongiorno! Ah! Le vostre pianticelle hanno iniziato a crescere! Presto sbocceranno dei fiori! Una lumachina è venuta a dare un'occhiata! Oh no! Alle lumache piace mangiare le foglie! Nonnino! Potresti portare Barbara nel tuo giardino? Ehm... E va bene! Non vi preoccupate! Ci penso io a lei! Una settimana dopo... Peppa! George! Venite a vedere! Che meravigliosa sorpresa! I miei fiori sono sbocciati! E guardate che bella la pianta di George! Sembra una pianta di fagioli! Ed è salita molto in alto fino alla cima del castello della bella principessa! Non proprio, Peppa! Ma in effetti arriva piuttosto in alto! Eh sì! La pianta di George è diventata più alta della nostra casetta! Oh oh! George ha piantato uno splendido girasole! I miei complimenti! Mi piace molto il nostro giardino fiorito! E ora passiamo a coltivare un bello orticello! Ma quello è il posto dove ho sistemato la mia sedia! Al mondo ci sono cose più importanti delle sedie! Papino caro! Per esempio i pomodori, le carote e anche le patate, figliolo! In effetti mi piacciono molto le patate! A Papà Pig piacciono le patate! A tutti piacciono le patate! Cavallino, pie veloce! Peppa e George giocano nella loro cameretta! Dinosauro! George, tu devi rimanere dalla tua parte della cameretta! La tua parte è quella! Questa invece è la mia! Mi sono spiegata! Non devi attraversare questa linea invisibile! Il postino! Buongiorno, signor Zebra! Buongiorno a lei, Papà Pig! Vi ho portato un po' di posta, eccola! Non c'è niente per me e il mio fratellino George! Ho paura di no! Sono tutte per la mamma e per me! Dimenticavo, c'è anche un pacco per lei! Deve essere la scatola di cemento armato che ho ordinato! Quanti francobolli! Certo, perché quel pacco viene da molto, molto lontano! Arrivederci! Arrivederci! Oh, sull'etichetta c'è scritto che è per Peppa e il piccolo George! Guarda, mamma, è arrivato un pacco per me e George! E c'è anche una lettera! Cari Peppa e George, questo regalo è per tutti e due! Con affetto, la vostra zietta Dotti! La zia Dotti abita molto, molto lontano, in un altro paese! E cosa ci ha regalato? Ha quattro rotelle! Macchina! Non è una macchina, George! Sembrano zampe! Forse è un tavolo? Ma ha anche una coda! Oh, i tavoli non hanno la coda! E qui c'è anche una maniglia! Ma cosa potrà mai essere? C'è qualcos'altro nella scatola! È un cavallo giocattolo! Lo voglio chiamare... Pie veloce! Cavaino! Pie veloce! Cavaino! Ho detto pie veloce! Cavaino! Non litigate, ricordatevi! Questo regalo della zia Dotti è per tutti e due! Giocateci un po' per uno, vi divertirete moltissimo! Posso giocare con pie veloce per prima! Lascia giocare George per primo, è il più piccolo! Cavaino! Cavaino! A George piace giocare con cavallino! George! Si chiama pie veloce, ho detto! E non cavallino! Adesso è il turno di Peppa! Io sono la principessa Peppa! E lui è il mio super magico cavallo pie veloce! A Peppa piace giocare con pie veloce! Ops! Forse dovreste portare il vostro cavallo in giardino! Sì, mammina! È un po' troppo ripido qui! Forse dovreste giocare in fondo alla collina! È il modo più veloce per scendere a valle e montare a cavallo! Sei proprio sicuro, papino? Cerca di non romperlo come fai di solito! Io so benissimo quello che faccio, Peppa! Sono un adulto e quindi... E ora come ti fermi, papino? Oh, ecco, io non lo so! Non riesco a trovare i freni! Che genio! Hai usato lo stagno per fermarti! Che cosa è stato quel tonfo? Di quale tonfo parli? Papà Pig? Lo sai che è una paperella in testa? Oh, eh... Sì! Beh, sono caduto nello stagno! Cavaino! Cavaino! George vuole fare un giro sul cavallo giocattolo! Vai! Vai! Ma non riesce a farlo partire! Ci vorrebbe qualcuno grande e forte per spingere George a cavallo e farlo divertire! Io sono grande e forte! Io posso spingere George! Ma che buona idea! Brava Peppa! Cavaino! Cavaino! George, il nome di questo cavallo è Pieveloce! Cavaino! Pieveloce! Cavaino! Ideona! Visto che la zia Dotti lo ha regalato a tutti e due, lo chiameremo Cavallino Pieveloce! George e Peppa ora giocano insieme con Cavallino Pieveloce! La veterinaria volante! Peppa ha portato la piccola Goldie dalla veterinaria per una visita di controllo! Complimenti! Questo pesciolino è allegro e salute! Bravi! Grazie di tutto, dottoressa Criceto! Sì, pronto! Dottoressa Criceto, sono il signor Elefante! Il signor Elefante sta facendo una passeggiata in montagna con la sua famiglia! Abbiamo trovato una lucertola malata! Papà è un lacertide! Edmond sa tutto sulle lucertole, è un sapiantino! D'accordo, vi raggiungo subito! Possiamo venire anche noi! Ma certo! Andiamo! Che bello! Prendiamo l'ambulanza, dottoressa! No! È troppo lontano per andarci in macchina! Dobbiamo prendere il mio aeroplano! Aeroplano! A George piacciono gli aeroplani! Tutti a bordo! Su, su, si vola! Non sapevo che avesse un aeroplano privato, dottoressa Criceto! Oh, certo! Io sono la veterinaria volante! Meno male! Sta arrivando la dottoressa Criceto! Fate largo! Veterinaria in arrivo! Dove è la lucertola bisognosa di cure? Eccola, è qui! Oh, povera bestiolina! Che malattia avrà quella lucertolina? È zampe all'aria! Proviamo a rovesciarla! Fatto! La dottoressa ha guarito la lucertola! Evviva! Oh, un'altra chiamata d'emergenza! Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Nonno Pig! Nonno Pig sta navigando sulla sua barca! Il pappagallo Polly non si sente affatto bene! Ah, affatto bene! Sarò lì in un battibaleno! Guarda là, Polly! Sta arrivando la veterinaria! Ma non possiamo atterrare sull'acqua! Questo è un aereo anfibio, Peppa! Con questo possiamo anche ammarare! Bello! Buongiorno! Peppa! George! Buongiorno, nonnino! Siamo venuti qui per curare il pappagallo Polly! Da quanto tempo sta male questa bestiolina? Da quando abbiamo iniziato la gita in barca! Aha! Allora so qual è il suo problema! Soffre di mal di mare! Oh! Portate Polly sulla terraferma il più presto possibile! Laggiù c'è un'isoletta! Vola, vola, su! Va meglio, Polly? Ah, va meglio, Polly! E' viva! I malanni di Polly sono passati! Oh, un'altra chiamata d'emergenza! Pronto? Pronto! Sono Papà Pig! Papà Pig è nel suo ufficio! Ci sono degli anatroccoli che sono bloccati sul tetto! Sarò lì in un battibaleno! Dottoressa, meno male che è arrivata! Fate largo alla veterinaria volante! La signora anatra ha deposto le uova sul nostro tetto! E adesso sono nati dei bellissimi anatroccoli! Qualcuno di voi sa fare il verso dell'anatra? Io! Io lo so fare molto bene, dottoressa Criceto! Allora, fai il verso dell'anatra e vedrai che gli anatroccoli ti verranno incontro! Qua, qua, qua! Qua, qua, qua! E ora guidali allo stagno delle anatre, per favore! Va bene! Io sono mamma anatra! Qua, qua, qua! Gli anatroccoli sono tornati dalla mappa e il papà! Sì, è tutto per merito mio! Sì, pronto? È un'altra telefonata di emergenza, dottoressa! Quasi! È il signor Criceto che mi cerca! Sono in ritardo per il tè! Ciao! Arrivederci, dottoressa Criceto! Grazie di tutto! E nulla, arrivederci! Una giornata molto intensa per la veterinaria volante! Kylie canguro! È una giornata di sole! La famiglia di Peppa riceve una visita dalla famiglia canguro! Buongiorno! Buongiorno, signor Pig! Ci siamo conosciuti all'aeroporto, ricorda? Ehm... Molto tempo fa! Ci avevate detto di passarvi a trovare! Ah, davvero? Sì! Nel frattempo, alla famiglia si sono aggiunti Kylie e il piccolo Joy! Saluta, Kylie! Ciao, mi presento! Io sono Kylie canguro! Io sono Peppa Pig! E lui è George, il mio fratellino piccolo! Anche lui è il mio fratellino, Joy! Joy è nel marsupio di mamma canguro! Viene una gran sete quando si viaggia tanto! Volete bere qualcosa? Sì, grazie! Limonata! La mia passione! È deliziosa! Ecco, accomodatevi! Avete fame? Io ho sempre una gran fame! Niente paura! Prepariamo il pranzo! Il signor canguro cucinerà il pranzo al barbecue! Gradite panocchi arrosto? Miamo! Dovremmo farlo anche a casa nostra, cara! Un momento! Questa è casa nostra! Avanti, Kylie! Andiamo a giocare sul prato? Dai, vieni! Possiamo fare il mio gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! Sì, saltare mi piace tanto! Ma prima dobbiamo trovare una bella pozzanghera! Oh, ma qui intorno non ne vedo nessuna, purtroppo! Il terreno è troppo secco, non ci sono pozzanghere! Quanto vorrei che piovesse, Peppa! Speriamo che non piova! Noi amiamo la pioggia! Da noi non piove quasi mai! Beh, se vuoi che si metta a piovere dalle nostre parti, accendi un barbecue! Possiamo saltare lo stesso, se vogliamo! George se la cava abbastanza bene a fare i salti, ma io sono molto più brava di lui! Guarda e impara! È così che si salta, visto? E adesso tocca a te, Kylie! Va bene! I canguri sanno saltare molto in alto! Brava! Arriva Rebecca coniglio! Ciao, ciao, Rebecca! Ti presento la mia nuova amica, Kylie! Ah, ciao, Kylie! A cosa state giocando? Ci stiamo divertendo a saltare! I conigli sono i più bravi a saltare! Guardate qui! Tu salti molto bene, Rebecca! Però la mia nuova amica Kylie è decisamente più brava di te! Coraggio! Falle vedere, Kylie! Non voglio mettermi in mostra! Fa quello che ti ho detto! Va bene! Quello sì che era un salto! Kylie canguro è la più brava a saltare! Ma ecco Pedro Pony! Buongiorno ragazzi! Ehi! Buongiorno Pedro Pony! Ti presento la nostra ospite! Si chiama Kylie canguro! È la mia nuova amica! Kylie è la più brava di tutti a fare i salti! Nessuno al mondo può arrivare più in alto di me quando faccio i salti con il mio pallone salterino! Fagli vedere, Kylie! Ma Pedro ha fatto un bellissimo salto! Ho detto salto? Va bene! Accepecchia! Kylie canguro è la più brava di tutti a saltare! Io so saltare più in alto, soltanto che ora sono un po' stanchino! Oh! Ho sentito una goccia! Comincia a piovere! Che vi avevo detto prima? Se volete che piova, accendete un barbecue! È meglio entrare in casa! Facciamo presto! Perché? È così bella la pioggia! Il signor canguro ha un grande ombrello che ripara tutti dalla pioggia! Le pannocchie sono pronte! Chi ha fame? Io! A Peppa piacciono le pannocchie arrosto! A tutti piacciono le pannocchie arrosto! Bene! Ha smesso di piovere! Quando piove diventa tutto più fresco e più verde! È più umido! È più fangoso! E adesso guarda come si salta nelle pozzanghere! Bello! Deve essere divertente! Io sono la più brava a saltare, ma Peppa è decisamente la più brava a saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! Chiasso notturno! Peppa e la sua famiglia si fermano a dormire a casa della cugina Chloe! Ciao, cuginetti! Ciao! Immagino che siate molto stanchi dopo questo lungo viaggio! Sì! Stasera vorremmo andare tutti a letto molto presto! Prima portiamo il piccolo Alexander a fare la nanda! Questa è la stanzetta da letto di Alexander! Li piacciono così tanto i rumori! Lo aiutano a dormire! A noi piace vivere in una casa chiassosa! Siamo una famiglia molto rumorosa! Peppa, George, voi dormirete in camera mia questa notte! Oh, che bello! Per Peppa e George è emozionante dormire nella camera di Chloe! Buonanotte! 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 Notte, notte! Si sono tutti ritirati in camera da letto per dormire! Uaah! Il piccolo Alexander si è svegliato! Uaah! Anche Peppa e George si sono svegliati! Chloe, che cos'è questo rumore? Niente, il motore dell'aspirapolvere! Uaah! Uaah! Perché passate l'aspirapolvere di notte? Spero che il rumore non vi abbia disturbato! Cosa? Oh, no! Per fare addormentare Alexander, il rumore è la sola cosa che funziona! A lui piace il chiasso! E noi siamo una famiglia decisamente chiassosa! Sono tornati tutti a letto. Dormono. Ma il piccolo Alexander è ancora sveglio. Uaah! 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 Perché la zia Peppa si è messa a suonare la tromba? Per far dormire il piccolo Alexander si addormenta solo se sente il rumore! Non si potrebbe addormentare con un sistema un po' più silenzioso? Purtroppo il rumore è l'unico sistema che funziona! Quando George non dormiva di notte lo mettevamo nella sua carrozzina e gli facevamo fare il giro della casa. E si addormentava senza alcun problema! Ma che cosa strana! Non facevate nessun rumore! Esatto! Quante volte giravamo intorno alla casa a mamma Pig tre, vero? Cinquanta, caro! Papà Pig porta il piccolo Alexander a fare un giretto. Cinquanta giretti! Bene! Il piccolo Alexander si è addormentato. Potreste farmi rientrare? Sì, ma prima spengo l'allarme! E adesso lo rimettiamo in funzione! Peppa, sei ancora in piedi? Non riesco a dormire, papino! È una notte troppo rumorosa! Va bene, Peppa! Ti riporto io a fare la nanna! Allora, in quale stanza ti hanno messo a dormire? Fermati, papà! Questa è la stanza dove dorme il piccolo Alexander! La luce ha svegliato il piccolo Alexander. Non piangere! Ti ho portato l'aspirapolvere, tesoro! E io la tromba! Fermi! Mi è appena venuto in mente un altro sistema silenzioso che usavamo per addormentare George. Ma sì, certo! Lo portavamo a fare un giro in macchina! Scendo subito a prepararla! Non uscire! C'è l'allarme! Papà Pig ha fatto scattare l'allarme! Il rumore sveglia tutti i vicini! Arriva la signorina Coniglio a bordo del suo elicottero d'emergenza! Ehi voi là sotto! State tutti bene? Ho sentito l'allarme! Sì, tutti bene! Perfetto! Arrivederci! Il rumore dell'allarme e dell'elicottero hanno fatto addormentare il piccolo Alexander. Ci ha messo pochissimo questa volta, meno male! Tutto grazie al mio chiassosissimo paparino! Ottimo lavoro, Papà Pig! Dovresti venire più spesso qui da noi! La giornata della pace Peppa e i suoi amici sono all'asilo Indossano i costumi tipici di diversi paesi del mondo Oggi è la giornata internazionale della pace Faremo una grande festa per celebrare tutti i paesi del mondo Evviva! Peppa è il costume della Francia Io sono la Francia George è la Russia Pedro è l'America Zoe è il Giappone Konnichiwa E Susi è l'Olanda Allo! Non lo so pronunciare bene l'olandese Maestra, che cosa faranno i paesi di tutto il mondo oggi? Canteranno in coro la canzone dell'armonia tra i popoli Evviva! A me piace tanto cantare Anche a me piace Allora, siete pronti a cantare in coro? Sì, signora maestra! In tutto il mondo Pace e amor In tutto il mondo Pace e amor In tutto il mondo Pace e amor Pace e tanto amore Molto bravi! E più tardi la canteremo insieme ai vostri papà e alle vostre mamme È ora di giocare Divertitevi! E giocate senza litigare Tutti i paesi si divertono nel parco giochi La Gran Bretagna va sullo scivolo Francia e Svizzera sono sull'altalena La Germania gioca a campana Uno Due Tre L'America, la Russia, la Spagna e la Grecia sono nel recinto della sabbia Voglio costruire un enorme castello di sabbia Ma ecco che arrivano l'Olanda e il Giappone Adesso tocca a noi giocare nel recinto della sabbia Perché? Perché voi avete già giocato abbastanza Potete andare sullo scivolo adesso Ma noi vogliamo continuare a giocare qui! Oh no! Nel recinto della sabbia non c'è abbastanza spazio per tutti i paesi Perché stanno piangendo? Perché non vogliono far giocare noi nel recinto Ma noi siamo arrivati qui per primi Susy sta facendo la prepotente, vero? No, è George che si comporta male Lascia in pace mio fratello Non vedi che è piccolino? Calma, calma, calma! Si può sapere cos'è tutta questa confusione? Nei! Susy sta cercando di cacciarci dal recinto della sabbia, non è giusto? No, non è vero! Susy, non dire bugie! Non rispettano i tuoi! No, lascia! Oh no! I paesi del mondo non sanno giocare insieme senza litigare In tutto il mondo Ah, ci amo! Oh ma... Ma cosa succede? Oh no! Tutti i paesi stanno litigando? Non potete più giocare nel recinto Invece possiamo e comere! Quello è un recinto per piccoli No, non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non gioca quanto vuole! Smettetela di litigare! Susy! Tu sei molto prepotente e vuoi sempre comandare su tutti! No, non è affatto vero! Che cosa sta succedendo? America, Russia, Spagna e Grecia non vogliono dividere con noi il recinto della sabbia! L'Olanda sta facendo la prepotente! No, sei tu la prepotente! Basta così! Ascoltate! Pensate davvero che le nazioni del mondo si comportino così male? Dice di no! Ma certo che no! Ci scusi, signora maestra! Buongiorno! Sono arrivati i genitori Come sta andando la giornata della pace? Ehm... Non troppo male! Magnifico! Fantastico! E adesso vi canteranno la canzone dell'armonia tra i popoli! Peppa e i suoi amici amano cantare insieme in armonia! Tutti i paesi del mondo amano cantare insieme in armonia! Giochi da pioggia! È una giornata piovosa! Peppa e George non possono uscire! Non mi piacciono le giornate piovose! A me invece piacciono perché si formano tante pozzanghere in cui saltare! Evviva! Andiamo tutti a saltare nelle pozzanghere di fango! Peppa, non uscire! Aspettiamo che smetta di piovere! Quando smette, mammina? Ascoltiamo le previsioni del tempo! Previsioni del tempo per oggi! Pioverà tutto il giorno! Tranquilli! Conosco un gioco da fare quando piove! Sì? E qual è il gioco da fare quando piove? Ora ve lo mostro! Se prendo questa paperella di gomma e la nascondo, dove potete vederla? Pensate di riuscire a trovarla? Ma papino! Se possiamo vedere la paperella, vuol dire che non l'hai nascosta bene! Facciamo una prova! Ora metto la paperella qui, avanti! Ditemi dove si trova! È lì! Esatto! Ma è troppo semplice, papà! Non sarà sempre così semplice, Peppa cara! Chi vuole giocare per primo? Visto che è un gioco così semplice, il primo a iniziare è George! Va bene! Allora aspettatemi qui! Papà Pig mette la paperella in un posto dove George la può vedere! La paperella è nella vostra cameretta! George cerca la paperella di gomma! In effetti non è semplice trovarla! George! È visibilissima! Guardati intorno per trovarla! George si guarda intorno attentamente! Fuoco fuochino! Acqua! Di nuovo fuoco! George ha trovato la paperella di gomma! Evviva! Ma io l'avevo vista fin dall'inizio! Per me questo gioco è troppo semplice! Molto bene! Ora tocca a Peppa! E io penso a nascondere la paperella! Mamma Pig sta cercando un posto adatto per sistemare la paperella! Sono sicura che la troverò in pochi secondi! Potete venire! La paperella di gomma è da qualche parte qui in cucina! Ti troverò in pochi istanti! Paperella di gomma! Tanto lo so dove sei! Sei nel lavandino! Oh! La paperella non è nel lavandino! Se non è qui allora è nascosta sotto al tavolino! La paperella non è sotto al tavolino! Dai, dammi un indizio! Ti prego! È appollaiata sopra qualcosa di giallo! Appollaiata su qualcosa di giallo che di solito si trova in cucina! Sono le banane! Trovata! Eccola qua! Peppa ha trovato la paperella di gomma! Era nascosta tra la frutta! Evviva! Molto brava! Continuiamo a giocare a questo bellissimo gioco da fare quando piove! Va bene! Questa volta potete cercare tutti e due la paperella! Papà Pig cerca un posto originale per continuare il gioco! Peppa! George! Sono in soggiorno! L'ha messa sul divano! Forse è sopra il televisore! Non la vedo da nessuna parte! Volete un indizio? È appollaiata su qualcosa di molto grande e molto saggio! E anche molto carino! Sei tu papà! La paperella è sulla tua testa! Hai trovato il miglior nascondiglio di tutto quanto il mondo! È tornato a splendere il sole! Perché non andiamo a giocare all'aperto? Perché vogliamo continuare a giocare al gioco da fare quando piove! Sono sicuro che il gioco da fare appena smesso di piovere ti piacerà ancora di più! Com'è questo gioco? Dammi un indizio! Dobbiamo trovare una pozzanghera di fango! L'ho trovata! Il gioco è finito qui? No! Questo gioco non finisce quando trovi la pozzanghera, Peppa! Che si può fare con una pozzanghera di fango? Ci si può saltare dentro! È bello saltare su e giù in una pozzanghera di fango! Mi piacciono i giochi da fare quando ha appena smesso di piovere! Soprattutto quando si può saltare su e giù dentro una bellissima pozzanghera di fango! Lo spettacolo di Natale! Peppa e i suoi compagni stanno andando a teatro a vedere lo spettacolo di Natale del signor Patato! Siamo arrivati! Guardate! La famiglia degli ortaggi di Natale ha il completo! Il signor Patato! La signora Carota! Il piccolo Mirtillo! E Baby Cavolino! Ecco i vostri biglietti! Il numero sul biglietto è quello del vostro posto! Sì! Ecco il mio! Il numero 5! 6! 7! 8! 9! 10! Sistematevi su! Lo spettacolo sta per cominciare! Ehm... Signora Maestra! Posso andare in bagno, per favore? Oh! Pedro Pony! Permesso! Ehm... Permesso! Grazie mille! Fai fretta, Pedro Pony! Sai, Peppa! È la prima volta che vengo a teatro! È molto emozionante, non è vero! Permesso! Ehm... Scusatemi! Shhh! Silenzio! State zitti e buoni ora! Che cos'è questa musica? Lo spettacolo sta per cominciare! Oh! Scusatemi tanto! Non è l'inizio dello spettacolo! È il telefonino della maestra! Ehi! È un altro telefonino che squilla? No! Questo è l'inizio dello spettacolo! Signore e signori! Benvenuti allo spettacolo di Natale del signor Patato! Dove la magia della frutta e degli ortaggi non ha mai fine! Oh! Buongiorno a tutti voi! Io sono il signor Patato! Lei è la signora Carota! Adesso entra il piccolo mirtillo! E per finire l'ortaggio natalizio più gustoso di tutto il mondo! Bebi Cavolino! Ma dov'è finito? Bebi Cavolino? Bebi Cavolino? Dove sei finito? Si è perso! Oh! Ci potreste aiutare a ritrovarlo, cari amici? Sì! Se lo vedete, invito voi tutti a gridare forte, ecco Bebi Cavolino! Ecco Bebi Cavolino! Molto bravi! Quando lo vedete, gridate così! Eccolo! È dietro di voi! Dove? Là! È dietro di voi! Io non lo vedo! Non sono per niente bravi a cercare, era proprio là! Cucù! Eccoti qua, Bebi Cavolino dispettoso! Io sono la magica patta carotina! Guardatemi tutti! So anche volare! L'hanno tirata su con una corda, vedi? Posso realizzare un desiderio per uno! Qual è il vostro melodite? Io vorrei avere un bell'albero di Natale! Ogni tuo desiderio è un ordine per me! E ora possiamo cantare insieme il nostro canto natalizio! Volete sentire quanto siamo bravi? Sì! Bebi Cavolino sull'albero addobbato E sotto c'è un mirtillo, una carota e patate È una festa eccezionale! Te ne accorgerai! Il canto degli otaggi non finisce mai poi mai! Fine, arrivederci cari amici! Buon Natale! Buon Natale a tutti voi! E auguri! Ma è durato pochissimo! Alta! C'è un'altra sorpresina per voi! Non ve ne andate? Eh già! Un personaggio natalizio molto importante È venuto a fare visita al nostro pubblico! Indovina, indovinello! Chi sarà mai? È la regina delle fate! No! È... Babbo Natale! Ehi! Buongiorno, gentile pubblico! Rispondete! Siete stati tutti bravi? Sì! Vi siete lavati i denti tre volte al giorno? Sì! E avete tenuto in ordine la vostra stanzetta? Ho capito! Comunque sia, buon Natale a tutti! E ora, intoniamo in coro il nostro canto natalizio! Sì! Il dinosauro nuovo! George sta giocando con il suo giocattolo preferito, il signor dinosauro! Si diverte a lanciarlo e a farlo rimbalzare Il signor dinosauro è fatto di plastica È praticamente impossibile romperlo Dinosauro! George gioca con il suo dinosauro mentre fa il bagno E quando va a dormire, lo tiene sempre accanto a sé Dinosauro! George! Hai visto? Il signor dinosauro ha perso la coda! Il signor dinosauro si è rotto! Povero piccolo, George! Hai giocato con il signor dinosauro per molto tempo! Ha resistito anche troppo, a dire il vero! Forse è venuto il momento di comprare un dinosauro nuovo, tesoro! Sì! Domani ne compriamo uno nella bottega del signor volpe! Ecco la bottega del signor volpe! Nella bottega del signor volpe puoi trovare tutto quello che ti serve! Sono sicura che troverai un bellissimo dinosauro in questo negozio, George! Dinosauro! George non vuole un nuovo dinosauro! Guarda, George! Quello è un dinosauro molto grande! Oh! Dinosauro! Buongiorno! In che cosa posso servirvi? Vorremmo il dinosauro in vetrina, per favore! Senz'altro! Ottima scelta! Questo è Super Dino! Ruggisce, cammina e canta una fantastica canzone dinosauresca! Super Dino, Super Dino, sa cantare e camminare! Oh! Bello! Super Dino! Lo compriamo! Hihihi! Oh! George sta giocando con Super Dino sul prato! Non sbatacchiare troppo il povero Super Dino, George! È delicato! Così finirà per rompersi! George non può giocare con Super Dino sul prato! Allora va a giocare con Super Dino nella vasca! No! Se Super Dino dovesse bagnarsi, smetterebbe di funzionare! George non può giocare con Super Dino nella vasca! È notte! George dorme con Super Dino accanto a sé! Giorgio! La canzoncina di Super Dino mi ha svegliata! Sarà il caso che Super Dino vada a dormire da un'altra parte! A cantare e camminare! Non può tenere Super Dino accanto a sé neanche di notte! È mattino! Come mai George è così triste? Perché non può mai giocare con Super Dino! Né sul prato, né nella vasca, né quando va a letto! Consolati, George! Super Dino può sempre cantare! Super Dino, Super Dino sa cantare e camminare! Credo che le batterie si siano esaurite, Papà Pig! Già esaurite? Ma quante batterie ci sono qui? Centinaia di fantastiliardi! Super Dino ha bisogno di molte batterie per funzionare! Oh! E questa cos'è? È una trombetta verde! Non è una trombetta, Peppa! Hai trovato la coda del signor dinosauro! Oh! E ora, Papà Pig la rimetterà al suo posto! Sì, ci proverò! Ho paura che non sia affatto semplice aggiustarlo! Oh! Papà Pig ha aggiustato il signor dinosauro! E prima! Oh! Oh! In effetti, sono abbastanza bravo ad aggiustare le cose! George adora il signor dinosauro! Dinosauro! Festeggiam! Festeggiam! Ed insieme a lui giochiam! Per George, nessun giocattolo al mondo è meglio del signor dinosauro! Festa d'addio! La lezione è finita! È ora di tornare a casa! Alunni, la settimana prossima non ci sarà alcuna attività didattica! Perché mai, signora maestra? Perché io vado via! Oh! Arrivederci a tutti! Arrivederci, signora maestra! Peppa e George sono tornati a casa! Mamma, non dobbiamo più andarci all'asilo! E per quale motivo? Perché Madame Gazella oggi ci ha detto che va via! In effetti, è da tanti anni che insegna all'asilo! Madame Gazella ha insegnato a tutte le mamme e i papà da piccoli! Madame Gazella mi ha insegnato tutto quello che so! Che di voi sa contare fino a tre? Una, due, tre! A pensarci bene! Madame Gazella deve essere abbastanza in là con gli anni! Probabilmente è per questo che ha deciso di smettere di insegnare! Idea! Organizziamo una bella festa d'addio per lei! Che ne dite? Sarà divertente! È il giorno della festa d'addio per Madame Gazella! Sono venuti tutti ad aiutare! Pedro Pony, tu stai di guardia! E dai l'allarme appena vedi avvicinarsi Madame Gazella, chiaro? Perché? Non vogliamo che Madame Gazella entri all'asilo nel bel mezzo dei preparativi! Ci rovinerebbe la sorpresa! Va bene! Speriamo di aver invitato tutti! Avete pensato alle vecchie amiche di Madame Gazella? Scusa, ma un tempo non suonava in un complesso! Proprio così! Suonava la chitarra con le favolose gazelle rock! Pronto? Qui le gazelle rock! Pronto? Madame Gazella sta andando in pensione! Gigi si ritira! Che tristezza! Stiamo organizzando una magnifica festa! Una festa? Che idea divertente! Verremo senz'altro! Bene! Non manca nessuno! E ora prepariamo da mangiare per il rinfresco! Questa è la cucina dell'asilo! Tutti danno una mano a preparare il rinfresco! Emily Elefante e Wendy Lupo stanno decorando i pasticcini! Io preparo la glassa! E io ci metto su le granelle di zucchero! Peppa e George hanno fatto la gelatina! Gelatina tremolante! Trema, trema, trema! Pedro Pony fa la guardia in giardino! Ed ecco che arriva la maestra! Madame Gazella in arrivo! Non siamo ancora pronti! Trattienila, Pedro Pony! Va bene! Buongiorno, Pedro! Sei venuto in anticipo oggi? Sì, ma lei non deve entrare! Perché no? Perché è una bellissima giornata, vero maestra? Sì, Pedro Pony! Ma posso entrare adesso? No! È vietato dalla legge! Si può sapere cosa vuoi dire, Pedro? Noi siamo pronti! Ora puoi entrare se vuole! Sorpresa! E lei è una brava maestra! E lei è una brava maestra! E lei è una brava maestra! Nessuno lo può negare! Evviva! Maestra, questo è un regalo per lei! È un antichissimo orologio a pendolo! È fatto di autentica plastica! Vi ringrazio! Ma perché avete organizzato una festa per me? Perché tutti noi vogliamo ringraziarla per essere stata la migliore maestra del mondo intero! E così abbiamo deciso di organizzare una bella festa da Dio! Perché lei sta per lasciare questa scuola per sempre! Non la lascio affatto per sempre! Ma lei ci ha detto che se ne andava e che non saremmo dovuti venire mai più! Oh, Peppa cara! Ha solo detto che l'asilo rimarrà chiuso la prossima settimana perché sto per andare in vacanza! Resterò qui all'asilo per tanti altri anni ancora! Chi potrebbe farvi da maestra al posto mio? Nessuno! Quanto sono contenta che Madame Gazella non vada via per sempre! Sì! E non riesco a pensare ad un motivo migliore per festeggiare! È una festa che si rispetti! Deve avere della musica rock! Che sorpresa! Sono le gazelle rock! Ehi là, Gigi! Hai sempre con te la tua vecchia chitarra! Come no! E ora via al concerto! Giochi da pioggia! È una giornata piovosa! Peppa e Giorgio non possono uscire! Non mi piacciono le giornate piovose! A me invece piacciono perché si formano tante pozzanghere in cui saltare! Evviva! Andiamo tutti a saltare nelle pozzanghere di fango! Peppa, non uscire! Aspettiamo che smetta di piovere! Quando smette, mammina? Ascoltiamo le previsioni del tempo! Previsioni del tempo per oggi! Pioverà tutto il giorno! Tranquilli! Conosco un gioco da fare quando piove! Sì! E qual è il gioco da fare quando piove? Ora ve lo mostro! Se prendo questa paperella di gomma e la nascondo, dove potete vederla? Pensate di riuscire a trovarla? Ma papino! Se possiamo vedere la paperella, vuol dire che non l'hai nascosta bene! Facciamo una prova! Ora metto la paperella qui! Avanti! Ditemi dove si trova! È lì! Esatto! Ma è troppo semplice, papà! Non sarà sempre così semplice, Peppa cara! Chi vuole giocare per primo? Visto che è un gioco così semplice, il primo a iniziare è George! Va bene! Allora aspettatemi qui! Papà Pig mette la paperella in un posto dove George la può vedere! La paperella è nella vostra cameretta! George cerca la paperella di gomma! In effetti non è semplice trovarla! George, è visibilissima! Guardati intorno per trovarla! George si guarda intorno attentamente! Fuoco fuochino! Acqua! Di nuovo fuoco! George ha trovato la paperella di gomma! Evviva! Ma io l'avevo vista fin dall'inizio! Per me questo gioco è troppo semplice! Molto bene! Ora tocca a Peppa! E io penso a nascondere la paperella! Mamma Pig sta cercando un posto adatto per sistemare la paperella! Sono sicura che la troverò in pochi secondi! Potete venire! La paperella di gomma è da qualche parte qui in cucina! Ti troverò in pochi istanti, paperella di gomma! Tanto lo so dove sei! Sei nel lavandino! La paperella non è nel lavandino! Se non è qui, allora è nascosta sotto al tavolino! La paperella non è sotto al tavolino! Dai, dammi un indizio! Ti prego! È appollaiata sopra qualcosa di giallo! Appollaiata su qualcosa di giallo che di solito si trova in cucina! Sono le banane! Trovata! Eccola qua! Peppa ha trovato la paperella di gomma! Era nascosta tra la frutta! Evviva! Molto brava! Continuiamo a giocare a questo bellissimo gioco da fare quando piove! Va bene! Questa volta potete cercare tutti e due la paperella! Papà Pig cerca un posto originale per continuare il gioco! Peppa! George! Sono in soggiorno! L'ha messa sul divano! Forse è sopra il televisore! Non la vedo da nessuna parte! Volete un indizio? È appollaiata su qualcosa di molto grande e molto saggio! E anche molto carino! Sei tu, papà! La paperella è sulla tua testa! Hai trovato il miglior nascondiglio di tutto quanto il mondo! È tornato a splendere il sole! Perché non andiamo a giocare all'aperto? Perché vogliamo continuare a giocare al gioco da fare quando piove! Sono sicuro che il gioco da fare appena smesso di piovere ti piacerà ancora di più! Com'è questo gioco? Dammi un indizio! Dobbiamo trovare una pozzanghera di fango! L'ho trovata! Il gioco è finito qui? No, questo gioco non finisce quando trovi la pozzanghera, Peppa! Che si può fare con una pozzanghera di fango? Ci si può saltare dentro! È bello saltare su e giù in una pozzanghera di fango! Mi piacciono i giochi da fare quando ha appena smesso di piovere! Soprattutto quando si può saltare su e giù dentro una bellissima pozzanghera di fango! Il pancione! Peppa e George giocano con Susy Pecora e Pedro Pony Arrivano anche Rebecca e Richard Coniglio Buongiorno, Rebecca! Ho un segreto da raccontarvi! Un segreto davvero? La mia mammina ha un pancione grande, grande! Ha mangiato troppo? No, ha un coniglio piccolo, piccolo dentro! Mamma coniglio, hai veramente un coniglietto dentro il tuo pancione? Sì! Accosta l'orecchio per sentirlo, Peppa! Sì, grazie! Riesci a sentire il battito del cuoricino, Peppa? Sì, lo sento! Sta facendo boom, boom, boom! Puh, si sta muovendo, guardate! Eh sì, è un monellaccio da qualche calcetto! Nei! Avete scelto il nome da dargli? Ancora no! Mi aiutereste a trovarne uno grazioso? Sì, certo! Ciao, mamma coniglio! Posso offrirti un caffè caldo? No, non posso bere caffè! Ma ti dirò, avrei un certo appetito! Ti andrebbe una carota? Sono un po' stanca di carote! Ma se avessi delle patate, ne mangerei! Certo che le abbiamo! Magari una patata con gelatina, del formaggio e marmellata di fragole, per favore! Bè! Una patata con gelatina, formaggio e marmellata di fragole! Ma che strano miscuglio di cibi! Dobbiamo trovare un bel nome da dare al coniglietto! Sì! Se nascerà una femminuccia, la chiameremo Rachel Coniglio! Non sarebbe più bello Ruth Coniglio? Roxanne Coniglio! Cotronilla Coniglio! Cotronilla non mi piace per niente, Pedro! Sicuramente la prenderebbero tutti in giro! A me piace tanto Rosie! Rosie Coniglio! Sì, è un nome bellissimo! E se invece nascesse un maschietto? Oh! Potremmo chiamarlo... Rufus Coniglio! O Raymond Coniglio! Sicismiglio Coniglio! Sicismiglio Coniglio! No, davvero! Robby Coniglio! Sì, Robby Coniglio! Grazie per le patate con la gelatina, il formaggio e la marmellata di fragole, mamma pig! Figurati, non c'è di che! Abbiamo trovato dei bei nomi per il tuo coniglietto! Rosie, sei una femminuccia e Robby sei un maschietto! Sono dei nomi bellissimi! È un vero peccato che non possiamo darglieli tutti e due! Oh, il mio pancione! Con tutto quello che hai mangiato non mi sembra ci sia da stupirsi! Non credo proprio, papà Coniglio! Il coniglietto sta nascendo! Presto! Corriamo tutti in ospedale! Di gran carriera! Ma niente panico! Ciao! Ciao! Auguri! Hai messo tutto lo corrente nella valigia? Sì, non manca nulla! Cuscini, candele profumate, musica yoga e cibo in abbondanza per tre giorni! Niente panico! Niente panico! Qualcuno venga ad aprirci! Sta per nascere un coniglietto! Buongiorno, sorellina! Come mai in ospedale? Sta per avere un coniglietto! Sono incinta! Già, è vero! Sarà bene che entri allora! Scusate, potrei venire anch'io! Dopo che avrà parcheggiato la sua automobile! Ma non si preoccupi! Di solito, prima che i coniglietti nascano, ci vuole un bel po' di tempo! Fate largo! Permesso! Mia sorella sta per avere un coniglietto! Ecco il bollitore e asciugamani di ogni genere! Penso che le provviste basteranno per molti giorni! Dove posso sistemare tutta questa roba? Riportala in macchina, non ne abbiamo più bisogno! Cosa? Papino, ti sei perso la parte più bella! Davvero? Ditemi, è un maschio o una femmina? Tutte e due! Sono nati due bellissimi gemellini! Evviva! Il giorno dopo, mamma coniglio è già tornata a casa! Ciao a tutti! Possiamo vedere i gemellini, per favore? Ma certamente, Peppa! Oh, ma sono femminucce oppure maschietti? Uno e una! Un maschietto e una femminuccia! Si chiamano Rosie e Robbie! E così avete usato tutti e due i nomi, vero? Sì! Lei è Rosie coniglio e lui è Robbie coniglio! Sono i più bei nomi di tutto il mondo! E a trovarli siamo stati proprio noi! Il parco dei dinosauri! Oggi è il compleanno di Freddy Volpe e c'è in programma una gita molto avventurosa! Dove andiamo a festeggiare il tuo compleanno, Freddy? Non lo so nemmeno io, ma non vedo l'ora di arrivare, Peppa! Eccoci giunti! Nonna coniglia, vi dai il benvenuto nel suo parco dei dinosauri! Dinosauro! George, allora i dinosauri! Una domanda, i dinosauri di questo parco sono veri? No, sono soltanto delle riproduzioni! Meno male! I dinosauri veri si sono estinti sulla Terra 65 milioni di anni fa! Edmond sa molte cose sui dinosauri, è un sapientino! Ma noi abbiamo dei dinosauri ancora più belli di quelli veri! Abbiamo dei magnifici dinosauri canterini! Siamo dinosauri, sauri, sauri! Siamo dinosauri, cantiamo tutto il dì! Non sono tanto grandi! Beh, sì, sono un po' piccolini per essere dei dinosauri! Oh, sì! Beh, a dire il vero ne abbiamo anche uno grosso! Un vero e proprio gigante! Vi andrebbe di incontrarlo? Sì, grazie! Queste sono le sue orme, venite! Dobbiamo solamente seguirle! Oh! Queste orme sembrano proprio vere! Nonno coniglio, siamo sicuri che non ci siano dinosauri vivi in questo parco? Abbastanza sicuri, Papa Pig! Saltate sui massi, come me! Attraversiamo il ponte! Entriamo nella caverna! Quelle impronte si interrompono! Guardate! C'è una lunghissima scalinata verde! È un enorme scivolo! Lanziamoci! Whee! 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 Accipicchia! Lo scivolo è un enorme dinosauro! Sì! È un giga enorme! Mastodontesco dinoscivolosauro! Ammirate! Questo sì che è un dinosauro con i fiocchi! Si tratta di un brontosauro! Veramente! Il nome scientifico corretto è apatosauro! Tu sei un vero e proprio sapientino, dico bene? Sì! Coraggio, miei piccoli esploratori! Siete pronti per le prossime fantastiche avventure? Pronti, mamma con io! Ora dovete trovare un uovo! Come un uovo? Le uova sono troppo piccole, è difficile! Potrebbero essere da qualsiasi parte! Ci penso io, amici miei! Noi volpi siamo bravissime a fiutare le uova nascoste! Freddi Volpe ha un ottimo olfatto! Accipicchia! Che uovo grande! È enorme! È bello! Come mai è tanto grande, nonno coniglio? Perché è un uovo di dinosauro! Ma allora è vero! No, ma è molto più bello di un uovo vero! È un uovo finto! Guardate qua! Dentro l'uovo era nascosta una torta! Ma quella bella torta non è finta, vero, nonno coniglio? No! Tranquilli, la torta è verissima ed è soprattutto buonissima! Chi ne vuole un po'? Io! Io! Prima il festeggiato! Vieni qui, Freddi Volpe! Buon cumpleanno, Freddi Volpe! È ora di cantare e ballare! E che ne dite? Dovete imitare tutte le mie mosse! Saurodance! Salta e balla insieme a me! Saurodance! Salta e balla insieme a me! Hop, hop, hop! Ha, ha, ha! Tutti insieme qui a ballare! Saurodance! Grazie! Questo è il più bel compleanno di tutta la mia vita! Il treno di nonno Pig! Nonno Pig porta Peppa e George a fare un giro su Gertrude, il suo trenino. Mi piace tanto il trenino Gertrude! E la cosa più bella è che Gertrude ha le ruote di gomma, quindi non siamo costretti a viaggiare su binari regolari. Possiamo andare in tutti i posti che vogliamo! Il treno del nonno fa ciufciu, fa ciufciu, fa ciufciu. Il treno del nonno fa ciufciu, notte di... La signorina Coniglio porta i grandi al lavoro sul suo potente treno. Buongiorno, nonno Pig! Di nuovo in giro con il suo trenino giocattolo? Gertrude non è un trenino giocattolo. È una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. Oh, certo, fantastico! Ciao! Va più veloce, nonno Pig! No, non posso! Il treno Gertrude non può andare più veloce di così. Il treno grande, invece, va molto veloce. Oh, no! Il treno grande si è rotto. Che è successo? Facciamo tardi al lavoro! Buongiorno, signorina Coniglio. Il suo potente treno ha qualche problema. Non c'è niente da ridere, nonno Pig. Tutti i miei passeggeri devono andare al lavoro. Dovrebbe procurarsi un treno che non si rompa in continuazione, allora, come Gertrude. Mi sembra un'ottima idea. Può scendere? Perché? Prenderò in prestito il treno Gertrude. Cambio di treno, signori! E io cosa faccio adesso? Può rimanere qui e mettersi a riparare il treno grande. Ben detto! A me piace molto riparare le cose. Sarà uno spasso viaggiare su un trenino giocattolo. Gertrude non è un trenino giocattolo. È una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. Sì, certo! Si parte sul treno giocattolo! Non possiamo andare più veloci di così? No! Gertrude è un treno molto lento. La signora Mucca sta aspettando il treno alla stazione successiva. Che cosa è successo al treno grande? Si è rimpicciolito? Ma no! Gertrude è un trenino giocattolo. Gertrude non è affatto un trenino giocattolo. È una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. Si parte! A nonno Pig piace riparare le cose. Quanti affascinanti meccanismi qua dentro! Non ci voleva. C'è un ingordo stradale. Gertrude può viaggiare anche sull'erba. Ma sì, certo! Tanti saluti a tutti! La signorina Coniglio ha preso una scorciatoia. Passa per lo stagno delle anatre. Buongiorno, anatre! Risale la collina. Vieni duro, Gertrude! So che ce lo farai! E raggiunge la stazione successiva. Buongiorno! Ma dov'è finito il treno grande? Il treno grande ha avuto un guasto. Oggi andiamo al lavoro sul trenino giocattolo di nonno Pig. Gertrude non è affatto un trenino giocattolo. È una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. Alla prossima fermata si scende tutti. Questo va messo qui e questo va messo qua. Nonno Pig ha riparato il treno grande. Praticamente com'è nuovo. Ultima fermata! Adesso potete scendere e raggiungere il vostro posto di lavoro. Un momento. Abbiamo impiegato così tanto ad arrivare fin qui che è già ora di rientrare. Oh, torniamo indietro allora. Però se viaggiamo su Gertrude ci metteremo dei secoli a tornare a casa. Buongiorno, amici miei. Ho finito di riparare il treno grande. Ha fatto un ottimo lavoro, nonno Pig. Cambio di treno, signori. Si parte! Ferma! Come si fa con Gertrude? Non possiamo lasciarla qui. Sì! Gertrude! Non vi preoccupate. Possiamo caricare anche il trenino giocattolo. Gertrude non è un trenino giocattolo. Lo sappiamo. È una riproduzione in miniatura di un treno a vapore. Oh! Gertrude è un treno meraviglioso. È il treno più bello di tutto il mondo. La ragnatela. Papà Pig è al lavoro nel suo studio. Papà Pig, non so come fai a lavorare con tutto questo disordine. A me non sembra così disordinato. Ci sono ragnatele in ogni angolino. Io vado matto per le ragnatele. Danno alla stanza molta personalità. Le ragnatele sono fatte dai ragni e a me i ragni non piacciono nemmeno un po'. A me sì. I ragni vanno a caccia di mosche e le mosche sono orribili. Beh, l'importante è che non mi capiti davanti una di quelle bestiacce. Che bel ragnetto! Buona giornata, signor Zampe Secche! Dove ti sei nascosto? Trovatelo e portatelo fuori immediatamente! Tutti cercano il signor Zampe Secche. Il signor Zampe Secche non è nel cassetto dei documenti. Oh! Il signor Zampe Secche non è sotto la sedia. Oh! Il signor Zampe Secche non è sul tavolo. Oh! Mi chiedo dove si sia andato a nascondere il signor Zampe Secche. Ah! Oh, oh, oh! Credo proprio che l'abbia trovato di là mamma Pig. Non avere paura, mammina! Via! Portatelo via! Va bene, porteremo il signor Ragnetto Zampe Secche in giardino. Oh, 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 oh! E ora il signor Zampe Secche ha tutto il giardino a sua disposizione. Ciao, ciao, signor Zampe Secche! Comincia a piovere. Il signor Zampe Secche vuole rientrare a casa. Forse non gli piace la pioggia. Si sta arrampicando nella grondaia. Whisky, ragnetto, sale la grondaia. Sale la grondaia, sale, sale su. Cade la pioggia, bagna la grondaia. Whisky, ragnetto, svelto, scende giù. Ho detto che non voglio il signor Zampe Secche in casa, Papa Pig. Accompagniamo il signor Zampe Secche in un punto più lontano del giardino. Ecco fatto! Questo è un bell'alberello per viverci. Cosa sta facendo, papà? Si sta costruendo una ragnatela, Peppa. I ragni vivono sulle ragnatele e le usano per acchiappare le mosche. Oh, sta lavorando sodo! Sì, è impegnativo costruire le ragnatele. Per questo non bisogna mai distruggerne una. Se lo fai, il povero ragno deve cominciare tutto da capo. Ho capito, papà! Ci rivediamo, signor Zampe Secche! È ora di dormire. Mi è piaciuto vedere il signor Zampe Secche che costruiva la sua ragnatela oggi. Sì, e domani ne costruirà un'altra. Davvero? Certo! Il signor Zampe Secche costruisce una nuova ragnatela al giorno. E la prossima dove la costruirà, papà? Ah, questo non lo so. Lo scopriremo domani mattina. Buonanotte! Buonanotte! È mattino. Papà Pig sta per andare al lavoro. Non voglio arrivare in ritardo. Quest'oggi ho una riunione importante in ufficio. Papà, tu lavori sodo, non è vero? È come, Peppa. Ma non tanto quanto il signor Zampe Secche. Arrivederci a tutti. Ci vediamo stasera. Fermati, papino! Che succede? Non puoi prendere la tua macchina oggi. Per quale motivo? Guarda! Il signor Zampe Secche ha costruito una ragnatela che lega la macchina alla casa. Papà, tu ci hai spiegato che non bisogna mai, per nessun motivo, dobbiamo rompere una ragnatela. Davvero? Sì, papà Pig! E se sposti la macchina? La ragnatela andrà in pezzi. Sì, ma io come faccio ad andare al lavoro? Non ti preoccupare, papà. Io ti posso prestare la mia biciclettina, se vuoi. Ecco qua! Molte grazie, Peppa. Papà Pig va a lavorare con la biciclettina di Peppa. E buona pedalata! Sei prudente! Grazie, Peppa! Ciao! Ciao! Papà Pig fatica molto. Ma il signor Zampe Secche fatica ancora di più. Il pozzo dei desideri! Nonno Pig mostra il suo orto a Peppa e George. Qui ci sono i cavolini di brusselli, broccoli e i cavolfiori. Le patate, le carote, le barbabietole invece sono qua. E da quella parte si trova la frutta. E quella pianta che cos'è, nonnino? Quella, cara Peppa, è un'erbaccia. E che cos'è l'erbaccia? L'erbaccia è una pianta ostinata che cresce dove non dovrebbe. Strappala via e mettila in questo secchio. Non c'è posto per le erbacce nel mio orticello, lindo e ordinato. Nonno Pig è molto fiero del suo orticello. Secondo me c'è posto per coltivare una fragola piccolina piccolina qui. Una fragola in mezzo alle mie carote? No, Peppa. Le fragole vanno dove ho piantato la frutta. Ogni cosa deve stare al suo posto. Non sei d'accordo con me, nonna Pig? Sì, nonno Pig. Potremmo trovare un posticino per questo? Ehm, no. E quello cos'è, nonna? È un nanetto di plastica, cara Peppa. E verrà ad abitare nel nostro giardino. No, non se ne parla proprio. Non c'è spazio. C'è spazio in abbondanza. Mettiamolo qui. Non voglio che quel brutto coso mi tenga gli occhi addosso per tutto il giorno. Peppa, George, pensate anche voi che il mio nanetto sia brutto? No, nonna. Io penso che sia carinissimo, sì. Visto, nonno? No, noi siamo la maggioranza. E il nano resta qui. Ah, stanno arrivando i suoi amichetti. Cosa? Il signor toro è venuto a portare al signor nano una montagna di nuovi amici. Yuhuu! Ma, negli orti crescono le piante. Non cresce la plastica. Muu! Dove sistemo tutti questi nanetti? Non vogliamo nessun nano qui, grazie a tante. Oh, oh. Arrivederci. Sei un antipaticone, nonna Pig. Quelli sono i nanetti che ha comprato nonna Pig. Oh, come non detto. Li vogliamo quei nanetti, signor toro? Molto bene, attenzione! Sono carinissimi! E c'è anche questa cassa. A presto! Molte grazie, signor toro. E arrivederci! Arrivederci! E qui dentro che ci sarà? Un nanetto gigantesco? No, no, no. Lì dentro c'è un pozzo. Che cos'è un pozzo? Un pozzo, Peppa. È un profondo buco nel terreno che contiene tanta e tanta acqua. Oh! Effettivamente, ho bisogno di tanta acqua per il mio ticello. Quindi un pozzo mi sarebbe molto utile. Ma questo non è affatto un vero pozzo. È una carabattola di plastica. e non ha un buco al di sotto. Ma è molto bello, però. A cosa potrà servire mai un pozzo senza acqua? È un pozzo dei desideri. Ci si butta una moneta dentro e si esprime un desiderio. Allora posso esprimere un desiderio, nonna? Ma certo, Peppa. Eccoti una monetina. Desidero, desidero, desidero. No, non dirci cosa desideri. Va bene. Ho fatto! Molto brava. Nonna, ma si realizzano sempre i desideri del pozzo? Certo! Ah, evviva! Ma ora il nonno vi deve riportare a casa. Ciao, ciao, nonnina! Ciao, ciao! Ciao, ciao, tesorini miei! Lo sai, nonno? Sei molto fortunato ad avere un pozzo dei desideri nel tuo giardino. Lo pensi davvero, Peppa? Sì! Puoi desiderare delle cose tutte le volte che ti va. In questo modo i desideri si realizzano sempre. La nonna ha detto così e io le credo. Già. Vuoi sapere qual è il mio desiderio del pozzo, nonno Pig? Sentiamo un po' questo desiderio. Ho chiesto di avere anch'io tanti bei nanetti e un pozzo dei desideri nel mio giardino. Oh, bene! Penso proprio che si possa realizzare. Peppa e George sono arrivati a casa. Mamma, papà, ho espresso un desiderio e si è realizzato che bello! Davvero? E quale desiderio hai espresso? Di avere tanti nanetti e un bellissimo pozzo dei desideri in giardino. Oh! Nonno Pig, non credo che lo spazio in giardino sia sufficiente. Sciocchezze! Avete moltissimo spazio invece. Eh, sì, forse hai ragione, nonno. Peppa e George adorano i nanetti e il pozzo dei desideri. Tutti adorano i nanetti e il pozzo dei desideri. Il ritorno di Capitano Cane. Peppa e i suoi amici giocano a casa di Danny Cane. Io sono un capitano di lungo corso e navigo per i sette mari. Noi siamo dei pericolosi pirati. Corpo di mille balene. Chi sarà mai? È il signor Zebra, il postino. Buongiorno, mamma cane. Ho una cartolina per lei. Molte grazie, signor Zebra. Arrivederci. Chi ci ha spedito quella cartolina, mammina? Tuo padre, Capitano Cane. Papino! Ha appena terminato il giro del mondo sulla sua barca a vela. Sta tornando a casa. Come sono emozionata! Speriamo che arrivi presto. Buona giornata, signor Zebra. Buongiorno, Capitano Cane. C'è nessuno lassù! Papà! Danny! Papà! Danny! Quanto sono felice! Capitano Cane è tornato dal suo viaggio in barca. Marito mio, quanto mi sei mancato! Mamma cane, mogliettina mia adorata! Per quanto tempo rimarrai a casa con noi? Per sempre! Ho deciso che il tempo di viaggiare è giunto al termine ormai. Ho girato tutto il mondo, ho visto molto e ho fatto fortuna. E poi, ahimè, l'ho perso! E poi l'ho recuperata! Evviva! Ah, mi piace molto viaggiare. Ma c'è qualcosa che mi manca terribilmente quando sono in giro. Che cosa, Papino? La mia amata famiglia, naturalmente! È venuto il momento di appendere al chiodo il mio cappello da Capitano. Vi voglio raccontare le mie fantastiche avventure di viaggio. Sono stato per mare per un giorno ed un secondo, girando intorno a tutto il mondo. Hai fatto tutto il giro? Sì. E come hai fatto a stare a testa in giù? Non sei caduto? No, mi sono tenuto forte. Oh, che avventura fantastica! E come, figlio mio! E ho portato dei regalini magnifici ad ognuno di voi! Oh, dei regalini! Qui c'è un tamburo per Danny, da una giungla lontana, lontana! Grazie tante, papà! Molto bravo, Danny! Lo suono ancora più forte, se voglio! Molto bene! Per adesso può bastare, figlio mio! E per tutti i tuoi amici, delle conchiglie da un'isola deserta! Se le portate all'orecchio, potrete sentire il mare! È vero! Si sentono le onde, che bello! E per la mia adoratissima mamma cane, uno scrigno con ori e pietre preziose! Oh, che pensiero gentile! Me li invidieranno tutti! Ah, com'è bello essere nuovamente a casa! È l'alba! Capitan cane si è alzato presto! Papà, che cosa fai lì fuori? Controllo la direzione del vento, Danny! Perché? I marinai controllano sempre la direzione del vento prima di prendere il largo! Ma ci avevi promesso di restare a casa! Ah, già! Vi avevo fatto una promessa! Hai ragione! Hai nostalgia del mare, papino! No, no, non è il mare che mi manca! Ma ho nostalgia della mia barca! Se vuoi, ti posso prestare la barca a vela che mi ha regalato nonno cane! Ah, è la copia esatta della mia adorata barca! Potresti aiutarmi a farla navigare! È un'idea molto divertente! Peppa e i suoi amici sono allo stagno delle anatre! Salute, vecchi lupi di mare! C'è spazio per un'altra barca su queste placide acque? Sì! Eccellente! Danny, la nostra barca ha bisogno di un capitano! Non può navigare da sola! Papino, vorresti essere il capitano della mia barca? Con molto piacere, Danny! Ma solo se tu sarai il primo ufficiale! Sì, che bello! È il momento del varo! Signor sì, capitano! Prezza leggera! Il mare è una tavola! Nella mia ultima avventura di capitano di lungo corso, ho fatto il giro di tutti e sette i mari! Nella mia prossima avventura di capitano di lungo corso, circunnavigherò tutto lo stagno delle anatre! A Capitan Cane piace far navigare la barca sullo stagno delle anatre! A tutti piace far navigare le barche sullo stagno delle anatre! Il tartarughino pestifero! È una mite giornata autunnale! Peppa e i suoi amici giocano tra le foglie cadute! Guardate, è arrivato Titino e il tartarughino! Buongiorno, Titino! Che cosa ci fai da queste parti? Titino? Titino? La dottoressa Criceto, la veterinaria Titino è qui! Per fortuna l'avete trovato, grazie! Oh, pestifero di un tartarughino! Fila in scatola! È ora di fare la nanna! Per noi non è il momento di andare a dormire! Per voi no, per Titino sì! Lui dorme saporitamente per tutto l'inverno e si risveglia quando inizia la primavera! Deve essere fantastico! A te piace molto dormire, vero Pedro Pony? Eh sì! Oh, povera me! Titino? Titino è scappato! Guardate, è salito su quell'albero! Oh, Titino! Per quale motivo ti piace tanto arrampicarti sugli alberi? E ora come salviamo Titino e il tartarughino? Abbattiamo l'albero! Avanti! No, telefonerò ai vigili del fuoco! Vigili del fuoco? Che cosa? Un tartarughino su un albero? Di nuovo? Stiamo arrivando! Fate largo! I pompieri usano la scala per far scendere gli animaletti dagli alberi Vieni qui, Titino! Titino sale sempre più in alto! Vieni subito qui, è pericoloso! Mamma mucca si arrampica sull'albero! Stai attenta, mamma mucca! Povera a me! Mi sono bloccata! Le mucche non sono molto bravi ad arrampicarsi sugli alberi Resisti! Ora vengo ad aiutarti! Vieni qui, Titino! Oh, sono bloccata anch'io! Neanche gli elefanti sono molto bravi ad arrampicarsi sugli alberi Purtroppo temo che non abbia funzionato E adesso come possiamo fare per salvarlo? Bisogna abbattere l'albero! No! Adesso provo a chiamare il carro attrezzi Pronto? Risponde nonno cane col suo carro attrezzi Pronto? Titino il tartarughino è salito su un albero Un tartarughino sull'albero? Un'altra volta? Sì, arrivo subito! Come si faranno scendere le tartarughe dagli alberi? Si abbatte l'albero, giusto? Sì, esatto! Avanti, abbattiamo l'albero! No! Va bene, allora proverò a salire Evviva! Temo di essermi bloccato Neppure i cani sono molto bravi ad arrampicarsi sugli alberi Possiamo buttare giù l'albero finalmente? No! Sto per fare una telefonata che risolverà ogni problema Arrivo in un battibaleno! Ecco la signorina coniglio su un elicottero di salvataggio Buongiorno a tutti! Sono qui per salvare il tartarughino! Ehm, scusi, chi sta guidando l'elicottero? Ops! Che sciocchina! Salgo e inserisco il pilota automatico! Pilota automatico inserito! Buona giornata! Il pilota automatico sostituisce la signorina coniglio! Ti ho preso! Monello che non sai altro! La signorina coniglio ha salvato Titino! Evviva! Grazie mille, signorina coniglio, per avere salvato il mio Titino! Si figuri, dottoressa Criceto! E grazie per aver salvato anche lui! Ho solo fatto il mio lavoro! Arrivederci! Non dimentica nulla! Cosa? Oh, certo! Il mio elicottero! Arrivederci a tutti! Arrivederci! Sei proprio un tartarughino pestifero! Oh, bene! Vedo che ti è venuto sonno! Torna nella tua scatola! Sogni d'oro, Titino! Titino dormirà tutto l'inverno! E si sveglierà la prossima primavera! Shhh! Il dinosauro nuovo! Giorgio sta giocando con il suo giocattolo preferito, il signor dinosauro! Si diverte a lanciarlo e a farlo rimbalzare! Il signor dinosauro è fatto di plastica! È praticamente impossibile romperlo! Dinosauro! Grrrr! Grrrr! Giorgio gioca con il suo dinosauro mentre fa il bagno! E quando va a dormire, lo tiene sempre accanto a sé! Dinosauro! Giorgio! Hai visto? Il signor dinosauro ha perso la coda! Il signor dinosauro si è rotto! Povero piccolo, Giorgio! Hai giocato con il signor dinosauro per molto tempo! Ha resistito anche troppo a dire il vero! Forse è venuto il momento di comprare un dinosauro nuovo, tesoro! Sì! Domani ne compriamo uno nella bottega del signor Volpe! Ecco la bottega del signor Volpe! Nella bottega del signor Volpe puoi trovare tutto quello che ti serve! Sono sicura che troverai un bellissimo dinosauro in questo negozio, Giorgio! Dinosauro? Giorgio non vuole un nuovo dinosauro! Guarda, Giorgio! Quello è un dinosauro molto grande! Oh! Dinosauro! Buongiorno! In che cosa posso servirvi? Vorremmo il dinosauro in vetrina, per favore! Senz'altro! Ottima scelta! Questo è Super Dino! Ruggisce, cammina e canta una fantastica canzone dinosauresca! Super Dino, Super Dino, sa cantare e camminare! Oh! Bello! Super Dino! Lo compriamo! Oh! Giorgio sta giocando con Super Dino sul prato! Non sbattacchiare troppo il povero Super Dino, Giorgio! È delicato! Così finirà per rompersi! Giorgio non può giocare con Super Dino sul prato! Allora va a giocare con Super Dino nella vasca! No! Se Super Dino dovesse bagnarsi smetterebbe di funzionare! Giorgio non può giocare con Super Dino nella vasca! È notte! Giorgio dorme con Super Dino accanto a sé! Giorgio! Super Dino! La canzoncina di Super Dino mi ha svegliata! Sarà il caso che Super Dino vada a dormire da un'altra parte! Super Dino sa cantare e camminare! Non può tenere Super Dino accanto a sé neanche di notte! È mattino! Come mai Giorgio è così triste? Perché non può mai giocare con Super Dino! Né sul prato, né nella vasca, né quando va a letto! Consolati, Giorgio! Super Dino può sempre cantare! Super Dino, Super Dino sa cantare e camminare! Credo che le batterie si siano esaurite, Papà Pig! Già esaurite? Ma quante batterie ci sono qui? Centinaia di fantastiliardi! Super Dino ha bisogno di molte batterie per funzionare! Oh! E questa cos'è? È una trombetta verde! Purtroppo non suona! Dinosauro! Non è una trombetta, Peppa! Hai trovato la coda del signor dinosauro! Oh! E ora, Papà Pig la rimetterà al suo posto! Sì, ci proverò! Ho paura che non sia affatto semplice aggiustarlo! Oh! Papà Pig ha aggiustato il signor dinosauro! E' prima! Oh! Oh! In effetti, sono abbastanza bravo ad aggiustare le cose! Giorgio adora il signor dinosauro! Dinosauro! Festeggiamo! Festeggiamo! Ed insieme a lui giochiamo! Per George, nessun giocattolo al mondo è meglio del signor dinosauro! Gara di animali! Peppa e i suoi amici sono all'asilo! Attenzione! Domani faremo una gara tra animaletti domestici! Oh! Portate i vostri animaletti! Il migliore di tutti vincerà un bel premio! Io porterò il mio pesciolino rosso nella vaschetta! Io invece porterò il mio insetto stecco! Io porterò il mio piccolo gecko! Io porterò la mia scimmietta! Oh! Oh! Quella non è una vera scimmia! E' soltanto un pupazzo! Non è affatto un pupazzo! E' una vera scimmia! Oh! Oh! Sai che tu le piaci molto, Danny! Zoe porterà la sua scimmietta, se lo desidera! La lezione è finita! E ricordatevi di portare le vostre bestioline preferite! È la sera prima della gara! Peppa e Susi stanno preparando la piccola Goldie! Mangia tutto! Domani avrai una giornata molto faticosa! Adesso pulisco la tua vaschetta! Molto bene! Pedro parla con il suo insetto stecco! Un insetto stecco è un insetto che assomiglia a uno stecco! Domani andremo insieme all'asilo, Steven Stecco! Dovrai gareggiare con tutti gli animaletti dei miei compagni! E vincerai di sicuro tu! Edmond Elefante parla con il suo gecko! Guarda e impara! E ora fai la stessa cosa! Zoe Zebra parla con la sua scimmia! Sei emozionata per la gara a cui parteciperai domani, scimmietta! Ricordati di comportarti bene, mi raccomando! Non fare la scimmietta dispettosa, va bene? Oggi è il giorno della gara! Signora maestra, chi deciderà quale dei nostri animaletti preferiti è il migliore? La dottoressa Creceto! Buongiorno a tutti voi! Buongiorno a lei! Oh, ma che deliziosi animaletti avete portato! Quanto è allegro quel pesciolino! Come si chiama? Ma è Goldie, dottoressa! Vi siete già conosciute! E la sua vaschetta è linda e luccicante! Che cosa piace fare alla piccola Goldie? Le piace nuotare in tondo e fare così con la bocca! Molto bene, cara! E questo che cos'è? Le presento il mio insetto stecco! E come si chiama? Steven stecco! Che cosa fa di solito? Finge di essere uno stecco! Davvero sorprendente! E questo animaletto che cos'è? È un piccolo geco! E ce l'ha un nome? Emidactylus frenatus! Edmond Elefante è un sapientino! Sì, certo! E che cosa fa di bello? Questo! E ora a chi tocca? Lei è una scimmia! Ma si trova bene in quella posizione? Certo! Si è addormentata! Oh, capisco! È una scimmia molto carina! Ho portato anch'io il mio animaletto! Titino il tartarughino! Che ama arrampicarsi sugli alberi e salire... Che ha vinto la gara? Sì! Chi ha vinto il primo premio? Oh! Il primo premio lo ha vinto... Titino il tartarughino! La dottoressa Criceto ha premiato il suo animaletto! Non è giusto, però! Quell'animaletto è il suo! No! Intendevo che Titino il tartarughino ha vinto il premio come... Miglior tartaruga! Il premio come miglior pesce se l'ha giudicato la nostra... Dolcissima Goldie! Evviva! Il premio come miglior Gekko lo ha vinto il nostro... Gekko! Evviva! Il premio all'animaletto più somigliante a un bastoncino di legno lo ha vinto... Steven Sticco! Evviva! Il premio alla scimmietta più simpatica... Dottoressa Criceto, la mia non è una scimmia vera! È soltanto un pupazzo! Il premio alla scimmietta pupazzo più carina del mondo va alla... Scimmia di Zoe! Evviva! Scusi, dottoressa Criceto, ma chi ha vinto il primo premio assoluto? Lo hanno vinto tutti i vostri animaletti, vispi e allegri! Sono così carini! La bottega del signor Volpe Mamma e papà Pig stanno incartando un regalo Uh, che bel pacchetto! È un regalo per me o per George? No, Peppa, non è né per te né per George Oh, ma è un giocattolo! No, è un vaso di cristallo! Come regalo non mi sembra un granché! Oh, certo! Ma questo è un regalo per adulti! L'abbiamo comprato per nonno e nonna Pig! Oggi è il loro anniversario di nozze! Possiamo comprare anche noi un regalo ai nonnini! È molto gentile da parte tua, Peppa! Ma i regali possono costare troppo per voi! Ma noi abbiamo un salvadanaio pieno di soldini! In verità, Peppa e George hanno una moneta e due bottoni! Va bene! Andiamo a fare acquisti! Arrivano alla bottega del signor Volpe Buongiorno, prego! Come posso esservi utile? Oggi è l'anniversario di matrimonio di nonno e nonna Pig Sono anziani tutti e due e vogliamo fargli un regalo! Qui nella mia bottega non manca niente! Sono più che sicuro che troverete un dono per i vostri nonni! Un enorme orsacchiotto! Mi piace tanto! È un bellissimo regalo, questo! Peppa, questo regalo non è per voi! Deve piacere al nonno e alla nonna! Ah, già! Guarda! Che denti buffi! È una divertentissima dentiera a molla! Sta andando a ruba! Non sarebbe un bellissimo regalo per il nonnino e la nonnina? Penso che il nonno e la nonna abbiano già tutti i denti di cui hanno bisogno! Ai vostri nonni piace fare giardinaggio e scavare buche? Sì! Allora vi consiglio di regalare un secchiello e una paletta ad ognuno! Ne pagate uno e l'altro in omaggio! Ma loro hanno già secchielli, palette, rastrelli e attrezzi simili! Che peccato! Idea! Al nonno piace tantissimo andare in barca! Alto non dire altro! Nella mia bottega si trova tutto quello che un marinaio può desiderare al mondo! Avete il tesoro segreto dei pirati? Veramente ho tutto tranne il tesoro segreto dei pirati! Ai vostri nonni piacciono gli oggetti di antiquariato? Cos'è un oggetto di anticariato? Si tratta di un oggetto molto antico e prezioso! Solitamente è così! Ma i miei oggetti di antiquariato sono nuovi di zecca! Questa fa parte di un set di dodici sedie! Bella, non è vero? È fatta di quercia? Certo! Di una speciale quercia fatta di plastica! Voglio provare secco! Prego, non si sieda! Le sedie antiche non sono fatte per sedersi! Ah, e che cosa ci si fa allora? Si guardano e basta! Non mi sembra molto divertente! Nemmeno per chi è grande come i nonni! Comprare un regalo per i nonni è un'impresa difficile! Non era mai successo! Io vendo da sempre oggetti di ogni genere! Deve pur esserci qualcosa che vi piace! L'avevo trovato! A me piace questo orsacchiotto! E piacerà moltissimo anche al nonno e alla nonna, ne sono sicura! Oh oh! E allora compriamo l'orsacchiotto! Mi sembra un'ottima scelta! Chi di voi paga? Una moneta e ben due bottoni! Ecco il resto! Un bottone! Grazie, signor Volpe! Peppa e la sua famiglia vanno a casa di nonno e nonna Pig per consegnare loro i regali! Ciao, nonno Pig! Ciao, nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei! Buon anniversario di matrimonio! Oh! Un altro vaso di cristallo! Quello è il regalo di papà e mamma! Ecco perché non è molto divertente! È bellissimo! Lo metteremo accanto agli altri vasi di cristallo! Anch'io e George abbiamo un regalo per voi! Speriamo che vi piaccia tanto! Un orsacchiotto! Per me e per il nonno! È uno splendido regalo, Peppa e George! Ama molto farsi coccolare! Ma ce l'ha un nome? Ehm... Si chiama Eddie l'orsacchiotto! E quali sono i cibi preferiti di Eddie l'orsacchiotto? Il cioccolato e i broccolini! È il più bel regalo che abbiamo ricevuto in vita nostra! Oh! Ma se Eddie viene a vivere nella nostra casa, avrà bisogno che ci sia qualcuno con cui giocare! Giocheremo noi con lui, nonnina! E ogni volta che verrete a trovarci, Eddie l'orsacchiotto vi aspetterà per giocare insieme! Oh! Che bello! Giocheremo! Giocheremo!